Cari telespettatori, ben ritrovati con il consueto appuntamento per dialogare, per discutere, per riflettere soprattutto su quelli che sono stati gli accadimenti dell'ultima settimana. Ci avviamo verso una fine d'anno abbastanza complesso, complicato. Sul piano generale la politica non ha risposto ai bisogni delle comunità, delle popolazioni. Sul piano dei sentimenti prevale fortemente la paura, una paura che determina un egoismo, tanto è vero, che ciascuno pensa al proprio tornaconto e non lavora nel bene comune per la complessità dei problemi che ci sono di fronte. Ci sono fenomeni inquietanti, il terrorismo che ritorna, di tanto in tanto si riaffaccia sulla vicenda internazionale, creando una certa instabilità, una paura che crea e determina quel vuoto di cui parlavo prima. Sul piano nazionale, per quanto ci riguarda, continua alla vigilia delle elezioni regionali. Un appuntamento importante sarà il risultato delle regionali in Calabria e soprattutto in Emilia e Romagna. Qui la guerra oramai si è scatenata, la vecchia politica, vecchia in questo senso di nobiltà, si è frantumata, si è lacerata, si è dissolta nei pettegolezzi, nei contrasti. Guardate, nei programmi dei partiti, dei movimenti, oggi non si parla più di problemi, ma si parla sostanzialmente di persone, di lotta l'uno contro l'altro. E questo crea l'instabilità, crea anche movimenti strani come quello delle Sardine. Prima ancora c'era stato quello di 5 Stelle, ancora prima quello della Lega e ancora prima quella dell'uomo qualunque di Giannini negli anni del dopoguerra. Insomma, quando c'è il vuoto della politica del fare, si creano vie di uscite di sfogo, dico io, perché poi non contribuiscono in sostanza a disegnare un paese diverso, a dare una risposta ai tanti problemi che il nostro paese ha, soprattutto quelli del debito pubblico. Vediamo in questo braccio di ferro con l'Europa che il debito pubblico italiano viene continuamente rimarcato come momento di grande penalizzazione per l'economia anche nazionale. E Salvini va avanti, viene contestato, ma riesce a parlare alla pancia degli italiani, è una cosa stranissima, i quali avvertono sì la giustezza di alcune cose che egli afferma, ma non altrettanto quella paura che il suo dire, il suo fare, il suo proporsi da quasi come dire io sono e basta, diventa pericoloso per la democrazia. I due aspetti. Dall'altra parte il fallimento del Movimento 5 Stelle, diciamolo con chiarezza, era nato come partito, come movimento antisistema, criticando il sistema, l'Italia che non andava, la ricerca e la necessità di un rinnovamento. È fallito, è fallito sull'onda del potere, del palazzo, del personalismo. Sentire Grillo, di affermare, Grillo guardate, un comico che è riuscito attraverso a creare questo movimento, parlare di politica, parlare di cose che probabilmente non ha mai vissuto nelle sue grandi ville in Liguria, è insomma un po' strano per questo paese. Il Movimento 5 Stelle risente anche di questo. Non a caso, le spaccature all'interno del partito sono notevoli. La contestazione nei confronti di Luigi Di Maio è forte ed è pesante ed è anche motivata, a mio avviso. E la risposta che può venire in un momento di crisi come questo è l'intervento di Grillo che blinda Di Maio. E allora che cosa volete sperare? Perché l'aria è cupa? Che cosa si può fare? Ecco, io credo che noi attraversiamo una fase della nostra storia molto delicata, che è una fase di passaggio, di transizione, verso ciò che non abbiamo ancora capito che cosa deve essere, mentre distruggiamo ciò che è. In questo dilemma non si inserisce il pensiero, la riflessione, assolutamente no. I tempi, le ore, i momenti scorrono in modo inesorabile. E c'è l'ansia. A sostituire tutto questo vuoto c'è l'ansia, l'ansia di cosa deve accadere, di cosa accadrà. Un piccolo esempio, l'abbiamo riportato in un'inchiesta fatta sul giornale. La presenza del Natale in anticipo di alcuni mesi addirittura, a ottobre si è cominciato a parlare di Natale. Perché quest'ansia dell'attesa di ciò che deve venire, senza riempire di contenuti ciò che attraversiamo. Perché c'è il vuoto di pensiero, c'è l'ansia dell'attesa, c'è il rifugio nelle cose che evidentemente allontanano dalle preoccupazioni quotidiane. E allora si inventano cose, si creano novità. Tutto è all'insegna del business, come sta avvenendo in questi giorni. Ecco, io credo che questo momento difficile debba essere superato attraverso un'analisi attenta della scelta della classe dirigente di questo Paese. E la classe dirigente si recupera solo con la formazione politica. Si recupera solo ascoltando coloro i quali probabilmente hanno fatto scuola nel bene, tralasciando il male e recuperando quel pensiero che porta alla solidarietà, al superamento dell'individualismo, al superamento delle paure, alla capacità di crescere nelle certezze, nella stabilità, cose che noi tutti vogliamo. Ma tutto diventa difficile. Ogni momento elettorale, e in Italia si volta più o meno due volte all'anno, ogni momento elettorale diventa un momento di scontro e di recupero di scandalismo o di scandali veri che avvelenano le stesse campagne elettorali. Vedete il caso Renzi. Io non ho avuto mai grande stima di Renzi per la verità, pur avendo al primo impatto una simpatia naturale, un ragazzo scamiciato, con grandi idee, con la voglia di fare. Poi man mano mi sono accorto che era un avversario della libertà, un avversario della democrazia. Perché quando propose il referendum sulla modifica della Costituzione, facendo un bacchetto come se fosse trattato di carta straccia, ebbè allora si cominciò a pensare che il potere gli dava in testa, insomma, che non era possibile modificare la Costituzione, al di là delle appartenenze politiche, e quella fu una severa bocciatura. E poi ancora, rispetto a quello che è accaduto con le banche, l'aiuto che egli ha offerto alle banche, sottraendo i soldi ai cittadini, facendo in modo che i piccoli risparmiatori fossero penalizzati. Poi accade che, mancando un riferimento e un pensiero, si crea l'intesa 5 Stelle Partito Democratico. Serve a due cadaveri, che oramai si avviavano verso l'orizzonte a ridare fiato alle loro situazioni politiche. Rinasce Di Maio, che era ormai in crisi dopo la batosta europea. Rinasce addirittura Renzi, che, favorendo l'ingresso dei 5 Stelle nel PD, e preparandosi poi alla successiva scissione, ha creato una situazione di ingovernabilità. Vedrete quando durerà questo governo con la spina nel piango di Matteo Renzi. Purtroppo è così anche sul piano del mezzogiorno. Vedete le elezioni in Calabria, le elezioni in Puglia, le prossime elezioni regionali in Campania, stanno mettendo in moto una serie di prese in giro delle popolazioni. Si spostano i politici come se fossero burattini dal circo. Si spostano dappertutto a parlare, a dire parole. Lo stesso Premier Conte si è accorto che esiste anche un mezzogiorno, lui che meridionale è, ieri a Ballo della Lucania, prima ancora ad Avellino, poi a Napoli, per promettere, per dire, ma nella sostanza, al di là della dichiarazione degli intenti, delle promesse, non c'è niente. Non c'è niente. Il mezzogiorno è ancora più penalizzato da quello che accade con l'autonomia differenziata. Sì, c'è un accordo quadro, c'è un patto, ma valgono i fatti in politica e non può essere un accordo, sia pure alla luce del sole, fatto tra regioni del nord e regioni del sud a modificare la realtà. Sono ben più complesse le vicende che caratterizzano le due parti del paese. ben diversa è la storia di aggregazione delle regioni del nord rispetto a quella del sud, ben diverso è il momento, come dire, di intervento anche con i fondi europei del nord che spende il 100% e chiede altri fondi all'Europa e il sud che spende il 15%, per esempio la regione Campania, e ridà l'85% all'Europa che poi li distribuisce fra gli altri paesi. Insomma, anche su questo mezzogiorno c'è una volontà dichiarata a parole. Peraltro i libri che stanno uscendo nelle varie edizioni testimoniano ancora un vecchio modo di rapportarsi ad un'economia che non tiene conto delle realtà del mezzogiorno, che sono soprattutto quelle turistiche, del patrimonio artistico, di valorizzare un grande tesoro che purtroppo non vede l'attenzione giusta. e vediamo la Campania. Siamo alla vigilia di, mancano cinque mesi, poco più, delle elezioni regionali. Quando Aristotele diceva che sostanzialmente quando un politico si presenta al rendiconto degli elettori deve portare un proprio bilancio e deve dire che cosa ha fatto e su questo deve essere giudicato. Lo vogliamo fare il bilancio sul governatore De Luca? Non si è preoccupato delle zone interne, poi vi dirò perché, a parte queste pagliacciate che si stanno facendo in questi giorni. Assolutamente ha guardato la salernitazione della regione, tutto ciò che era importante, tutto ciò che bisognava spendere, portare fondi, li ha portati in un salernitano, l'aeroporto, poi si trovano tante giustificazioni della sanità. Ha penalizzato la nostra provincia l'Irpinia. I trasporti non sono gestiti da manager irpini, che pure ci ne sono e sono tanti e sono bravi. La sanità è stata data, è stata affidata in mano a chi probabilmente non aveva, come dire, quella eticità per cui era stato allontanato in qualche modo con manifesti pubblici, con giornali dal Sannio per arrivare ad Avellino, come se non ci fossero stati qui. Sulla sanità i concorsi fatti ed espletati anche, non vengono nominati i primari, 15, 20 mancano all'ospedale Moscati. Dice, ma poi è uscito fuori dal commissariamento. Ma il commissariamento è una parola che riguarda un piano sanitario che non è stato attuato mai, perché i guai della sanità sono ben altri. I guai della sanità in Irpinia nascono esattamente dal clientelismo che viene fatto dalla regione Campania, con insediamenti, con personale, con promozione, con primari. Perché una volta si diceva, e purtroppo siamo ancora in questa condizione, che il medico ha il libretto e quindi il libretto porta voti e i voti servono a mantenere l'apparato sistema clientelare. E questo sta accadendo. E potremmo parlare di altre cose, dei forestali. Voi sapete che è un argomento che mi appassiona, perché ho visto vittime. Persone morire perché non ce la facevano a mantenere la famiglia, a mantenere i figli agli studi. Qualcuno si è suicidato addirittura. Questi forestali che vengono attenzionati solo quando c'è la necessità di raccogliere il voto. Non c'è stata una riforma delle comunità montane, che a mio avviso sono enti quasi inutili. Perché molti sindaci, non tutti per la verità, usano i forestali per pulire le strade davanti alle proprie case, davanti al comune. Quando invece è la montagna che va protetta. Sono altri i ruoli e gli impegni che devono essere affidati ai forestali. Ma i forestali che purtroppo non hanno responsabilità per chi vengono comandati. Sono vittime di un potere che sembra effimero, ma che è un danno alla comunità. Vedete che cosa accade quando piove e stavolta le piogge sono state in sistema? Frana. Le frane. Perché? Perché la montagna non è curata. Perché la montagna non è curata? Perché i forestali purtroppo sono utilizzati, altrimenti vengono penalizzati, a pulire davanti ai giardini, le case dei propri amministratori comunali. E la riforma delle comunità montane, che vede complice anche il silenzio, la scarsa attenzione del sindacato che a ogni piesso spinto fa documenti, ma poi non si accorge che quei documenti non hanno il segno dell'onore, perché non vengono rispettati e tacciono. Ha fatto questo De Luca? Il governatore De Luca? Non credo. Non credo. Io che credo di avere un minimo di esperienza nella professione, non fosse altro per quello che mi è capitato di fare nel mondo, in Irpinia, io resto sconcertato di fronte al fatto che, per ritornare ai grandi filosofi del passato, uno che registra il proprio fallimento probabilmente ha il coraggio, perché si tratta di coraggio anche se definito in senso inverso, di ripresentarsi al corpo elettorale. Ma tant'è. la mobilità del governatore della regione Campania sulle zone interne oramai sta diventando una sessione, è presente a tagliare narsi, è presente nei convigni, l'ultimo l'altro giorno con il ministro delle infrastrutture, la brava De Michele, devo dire. Qui ci sono due aspetti. Allora, l'aver voluto fare a Grotta Minarda, che è il cuore dell'Ufida, della città dell'Ufida, diciamo, un convegno sullo sviluppo. Beh, chi ha partecipato, chi ha visto, chi ha sentito, chi è stato informato di come sono andate le cose, non può che restare sconcertato. È stato uno spot elettorale. Si è trattato di uno spot elettorale. Di uno di quei metodi di far politica che risale ai tempi antichi. tutti in prima fila, tutti i sindaci preoccupati, naturalmente, ad ascoltare. E quella terra, vabbè, fra anni, ha detto, la De Michele avrà l'alta capacità, ci vogliono anni per completare questo percorso. E che cosa sta accadendo? Qualcuno se l'è chiesto. È stato anche detto sfiorato l'argomento, perché non si poteva andare oltre, perché sarebbe stato come presentare la vergogna propria a coloro che ascoltavano, suggestionati dal potere, perché le assenze forse sarebbero state cose più giuste e più nobile. Che cosa si è detto? L'argomento principe è stato solamente sfiorato. Lo spopolamento. Questi vanno a parlare con uno spot elettorale nella valle dell'Ufita semplicemente perché, perché non hanno una risposta allo spopolamento. non sanno come fermare la fuga dei cervelli, non sanno come attrezzare il territorio lanciando promesse, perché i giovani non fuggano, perché le case, le abitazioni, sorte dopo il terremoto, fatte dai genitori di questi giovani in fuga, sono in vendita, sono deprezzate, te le danno per quattro soldi, e i comuni restano isolati. La politica deve rispondere a questi bisogni, a queste necessità. Fin quando la politica diventa spot elettorale, allora non si va da nessuna parte. Il Mezzogiorno e l'Irpinia interna non va da nessuna parte. Lo dimostrano le decine di autobus, cariche di giovani che partono per il nord, per l'estero. Questo deve fare la politica. Non discutere astrattamente, pure come si fa in qualche scuola politica, di formazione politica, del sesso degli angeli. Bisogna programmare, bisogna avere un pensiero lungo, bisogna pensare alle future generazioni, non rimpiangere il passato senza costruire il futuro. E allora vedremo in questi tempi quanti sport elettorali ci saranno, cose, insomma, scandalose, chi ha un minimo di pudore, di decenza, capisce e si intristisce e si amareggia rispetto a questo trattamento della dignità umana. Vedrete fino al voto che si farà probabilmente a maggio del prossimo anno quante passerelle, quante taglie di nasi, quante buffonate, quante parole al vento. Vedrete come si rafforzerà quello che è uno dei mali, una delle radici del male del mezzogiorno, il trasformismo, il clientelismo, saltare da una parte all'altra, fare i conti per chi esce e chi non esce. È un segnale di questa barbarie si sta avendo con i sondaggi che vengono fuori. Infatti non si sa da chi. Ciascuno muove le proprie idee, si gancia un po' di danare a qualcuno per fare un sondaggio e dicono naturalmente sono falsi, sono falsi, perché nel momento in cui si abbatte l'avversario nelle liste delle candidature si esalta l'altro avversario, quello che è competitivo. E quindi i sondaggi non hanno nessun valore oggi. Sono bugie, sono fake news, sia non a caso. Siamo nel mondo delle fake news. E poi ci saranno, vedrete, ricrescerà l'occupazione in questo periodo, si trovano nuovi posti di lavoro. si nominano dirigenti. Sentirete parlare di me nel prossimo appuntamento di quello che sta accadendo all'Asi. I bandi che si stanno facendo, fatti preordinati per dare risorse nostre in modo immeritato quando un istituto è in crisi, ma ne parleremo diffusamente la prossima settimana. Sto raccogliendo gli elementi, i documenti, perché, ecco, una delle cose importanti per frenare questo spettacolo indegno in mondo e la documentazione seria e la ricerca e l'inchiesta per frenare quello che accade contro la questione morale. e questo mi porta a parlare della mia città, Avellino, per la quale io ho una grande preoccupazione. premetto che il bravo sindaco Gianluca Festa, ragazzo gioioso, deve probabilmente maturare ancora qualche idea di come si fa il sindaco, probabilmente non solo con Festa, Farina e Forca, ma modificando quelle che sono le cose della città. Mi fa ridere quando dice che distruggerà Salerno oppure annulleremo la capacità di Salerno. Vabbè, sono battute che si fanno così sull'onda dell'egoismo universitario, penso, no? della festa degli universitari negli anni 70-80. Ma questa città non ha bisogno più di parole, di promesse. Se il quadro è reale, è quello, ha bisogno di interventi. E allora Gianluca Festa, con tutto il rispetto, lui sa che io lo rispetto perché ha una funzione istituzionale, perché un ragazzo avellinese è cresciuto in questa realtà, è diventato sindaco probabilmente attraverso meccanismi inconsapevoli, oppure molto consapevoli. ma il tempo degli annunci è finito, il tempo delle cose dette, tanto per dire, non passa più, il tempo di attrezzare tutto in direzione delle feste, che gli creano anche simpatia, dico, ma non si può andare avanti così. Allora, centroautismo, venti anni e passa, arriva lui, faremo, centroautismo, ancora chiuso, mancavano le barriere, sono state messe le barriere, non si capisce qui. Piano di zona sociale, che è lo strumento che deve aiutare i più deboli, che deve dare dimostrazione che un sindaco è capace di agire nel senso, nel verso della povertà, dei bisogni di una città come la nostra, dove la povertà aumenta, dove la mensa dei poveri scoppia. Il piano di zona è bloccato perché si deve trovare un direttore, si deve fare, ma le competenze, i meriti, esistono ancora o si va avanti ancora con le clientele, con la spartizione e l'autorizzazione dei poteri. Che cosa sta cambiando rispetto a Foti, a Ciampi, anzi, se qualcuno mi dice che sta peggiorando, non posso dargli torto, è perché vedo la dogana, è la mia battaglia di sempre, insieme al comitato che ogni tanto dice la sua, parole, parole, parole. Il mercato, una volta qua, una volta là, una volta si sposta da una parte, da una, assolutamente niente. io penso che al di là della goliardia c'è poco o niente con tutto, come ho detto in anticipo, con tutte le riserve del poco tempo in cui è in sella Gianluca festa. Gli avevo dato un consiglio, fai pulizia davanti a casa tua, cioè perché la burocrazia ti blocca, lascia perdere coloro i quali nel bene e nel male ti hanno aiutato a diventare sindaco, diventa cosa altra, devi diventare garanzia per la città e della città. Perché a lungo tempo se le risposte non vengono il rischio è enorme, questa città scoppia, il Terminal e si dice l'AIR vabbè ma l'AIR oramai noi siamo appaltati a Beneventi e a Salerno ai nuovi padroni e padrini di questa realtà anche per responsabilità di scendiletto che si prostituiscono con i primi arrivati e quindi insomma fanno cose dell'altro mondo una volta li trovi all'AIR si spostano da centro a destra a sinistra secondo chi gli dà una mancia di potere o gli promette qualcosa ma la città ha bisogno di una risposta solidale ha bisogno di qualcosa che metta insieme pensiero e azione gli annunci non servono serve valutare ciò che si fa e come ho detto prima nell'elenco che potrei continuare per chi è sterminato delle cose annunciate e non fatte questo significa veramente prendere in giro gli avellinesi e a nessuno consentito fare questo con la mia città poi ci si mette pure il calcio il gas insomma siamo in guacerbo di interessi che cominciano a prendere forma se è vero come è vero che un po' di pulizia si sta facendo naturalmente fino a sentenza definitiva ciò che appartiene alla legalità va verificato ma insomma le cose che sono state scoperte in questi mesi hanno un segno forte che indicano come la città dormiente non era dormiente ma era soffocata dai poteri criminali si chiama camorra o si chiama altra cosa poco importa certo i poteri criminali che hanno una similitudine con quelli dell'agro sarnesa nocerino e con quelli della provincia periferia napoletana oramai cominciano a somigliarsi bisogna attenzionare anche questo la questione morale è la prima battaglia la prima sfida da lanciare in campo lo aveva detto prima di andare via con grande onestà intellettuale il prefetto Maria Tirone e io spero ne sono convinto che sarà così il successore la dottoressa Spena seguirà la stessa strada perché senza risolvere il problema della moralità pubblica allora non si va da nessuna parte entra la paura si crea quel vuoto e quel vuoto viene occupato dai poteri criminali ma insomma voi pensate tutto quello che è accaduto e sta accadendo sulle aste al di là dei giudizi che io assolutamente non metto in campo perché non lo spetta a me ma capite com'era corrotta e come è corrotta ancora probabilmente questa città dal punto di vista dell'offesa ai bisognosi che aveva una casa ed era costretto a fare dei patti altrimenti prendeva botte oppure veniva minacciato ma voi pensate qual è lo spessore della criminalità che si nascondeva nelle pieghe della nostra realtà e che comincia anche ad entrare la cosa più preoccupante nelle zone interne dove la cascata della droga aumenta di giorno in giorno dove gli episodi oramai occupano lo spazio di mezza colonna nelle pagine dei giornali o sui siti mentre invece si tratta di un dramma che attraversano tantissime famiglie e tutto questo rientra in quel circolo vizioso della criminalità organizzata allora sindaco istituzioni datevi una mossa perché è importante salvare siamo ancora in tempo forse siamo ancora in tempo a salvare la dignità di questa città a recuperare ciò che è la memoria storica di una nobiltà del passato che si era sofferente ma certamente non afflitta da una questione morale che oggi preoccupa si insidia e rende il futuro vuoto e preoccupante buonasera a Grazie a tutti.